Ecco, vedete, questo è agganciato qui, no? L'altro c'è aggancio di là, quindi questo dentro, no? Poi, io leggo le mani, le mani qui, qui, leggo i piedi, i piedi qui al... Allora, possiamo vedere questi, e questo sicuramente si può legare il braccio, vede, può legare il braccio di qua di là, e i piedi lo stesso a questo, qui, l'altriolo qui, dunque, e qui se c'è questa cinta perché sono terribili, questa è questa qui, per legare alla vita, in modo che non si muova, sentate almeno a questo qua, ci vedi, sotto, vedi, qui c'è, ecco, si vede in questo modo, altrimenti non si legge, e rompono tutto, ah, dunque, a tutti questi ragazzi, vi faccio vedere, vi faccio vedere cosa sono capaci di fare, queste qui, questo, qui si può essere una ragazza che va a dire, questo è di acciaio, questa, corrisponde a questo qui, no, corrisponde, vediamo qua, va, va su una qui dentro, se lo troviamo, ecco, beh, sarebbe questo, vedete come l'ha ridotto? è difficile non è possibile l'ha visto? il demone è pure del esorcista il esorcismo è lui che ha paura e non lo abbiamo pure noi e sono contento di dare in botta al demone quando mi dice il demone chi sei? Satana, ah ora mi sei capitato adesso ti ho dato un sacco di botti e quindi è lui che grida perché quando grida la persona ci sono dei gritti e delle suole che si sentono forse fino in fondo fino alla strada si sentono dunque nel giardino ma non è certamente la persona che grida ma è il demone che sente queste botte Martina and her parents ha venuto come to see Padre Alfredo regolari for the past six months the family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was eight years old although Martina comes to the sessions willingly as soon as she enters Padre Alfredo's bunker she suffers a violent reaction for her own safety for her own safety she has to be restrained before the exorcism can begin la madre restami and me oh tu l'inferno vai prenda l'acqua padre prenda l'acqua lasciami prenda l'acqua si non ci ho pensato ma l'acqua l'acqua non ci ho pensato l'acqua va bene va bene the exorcism consists of a ritual first formulated in 1614 and updated by the Vatican two years ago del figlio e lo spirito santo, signor Gesù Cristo, il figlio di pervedere il mio padre, Dio l'universo, il figlio di Cristo, è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo, ecco l'acqua del figlio di Cristo. E del esorcismo viene una forza particolare, dunque ho notato questo, a volte il demonio, siccome l'esorcismo è come se fosse bastonato, picchia il demonio, mette l'acqua santa, non apri la mano, mi brucia, mi sono accorto di questo, il demonio è furbo e cerca di parlare, per riposarsi, avete visto mai i pugili, i pugili, quando si danno i pugni, a un certo punto si abbracciano, si riposano, si riposano, respirano un attimo, il demonio fa la stessa tattica, dunque parla e io invece non mi sono andata diretta, continuare l'esorcismo, in modo che non c'è tregua, sono botte, 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 botte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le doni, eh, maligno, maligno, ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le doni, santa Maria ma libera, ma Maria, no, no, maligno, maligno, Cristo è più forte, cacceli via, dirà la verità, dirà la verità, dirà la verità a questa signora, esisti o non esisti tu? il demonio esiste o non esiste 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 il demonio come fa a dimostrarlo come fa a dimostrarlo che esiste normale, le guerre, tutto tutto io esisto e chi non ci crede è vero ma questo